Nuovo amore all'orizzonte per Fedez? Il rapper, che ieri ha compiuto 35 anni, avrebbe festeggiato il suo compleanno in dolce compagnia. A rivelarlo è il giornalista Gabriele Parpiglia, che su X ha parlato di una nuova fidanzata, non una ragazza più giovane, con cui starebbe costruendo una storia seria. Dopo i flirt estivi, insomma, sembrerebbe che Fedez abbia deciso di trovare un po' di stabilità. Ma con chi? Al momento Parpiglia non fa nomi, ma fornisce alcuni interessanti indizi. Il giornalista ieri ha scritto sull'ex Twitter, nuova fidanzata per Fedez. Sta festeggiando il compleanno in dolcissima compagnia. Al. Non una ragazza più giovane, ma una storia seria, seria e ripartenza in amore totale. Lei è milanese d'ocottima famiglia. Domani vi dirò tutto. Oggi è 16 ottobre e potremmo quindi saperne di più. Intanto, Chiara Ferragni ha ricevuto l'ennesimo tapiro d'oro da Striscia la notizia. Valerio Staffelli le ha chiesto cosa ne pensasse delle parole di Taylor Mega sul fatto che lei e Fedez fossero una coppia aperta. Non sono mai stata in una coppia aperta e ha risposto l'influencer che, poi, ha continuato il cioè, se coppia aperta significa che uno tradisce e l'altro no, allora non sapevo di esserlo. Da parte mia coppia aperta mai.